Benvenuti! 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 Benvenuti al cinema! Stai registrando? Benvenuti in questa terza lezione, in questo video andremo a vedere un sacco di cose, perché infatti andremo a vedere il mare, le nuvole, stelle cadenti le ripetiamo, stelle a to punte le ripetiamo, texture della luna, estensi per i delfini, roccele osadette? Quindi un sacco di cose, sarà un video pieno di elementi da imparare. Io comincerai subito, andiamo! Ok, allora eccoci qui, per questo disegno ci serviranno questi materiali. Ovviamente il cartoncino da spray art, come bombolette non possono mancare mai il nero e il bianco, io per questo disegno ho scelto un turchese, blu, azzurro e qualche tonalità di rosa. Poi useremo un sottovaso, un paio di giornali, una spatolina e una spatola per fare il mare. Ricordo che tutti i materiali li potete trovare nel link in descrizione e per le bombolette, spatole e altre cose avete un codice sconto che trovate sempre in descrizione del 15%. Allora, come sempre, come prima cosa, cosa si fa? Si mette il sottovaso in posizione. Come avete visto, qui sotto avremo il mare, quindi il pianeta lo mettiamo in questa posizione centrale. Con un colore chiaro, come al solito, vado a prendere la sagoma e tolgo il sottovaso. Allora, per fare la luna, come vi ho fatto vedere all'inizio del video, ci servirà un cartoncino dove spruzzare il bianco per far cadere le nostre goccioline. Quindi muniamoci del cartoncino. Allora, potete usare tranquillamente i cartoncini che usate per disegnare, ne strappate un pezzo e lo piegate. Adesso ci basterà spruzzare all'interno del cartoncino e far cadere le gocce sul foglio. Qui dovrete un po' sperimentare su quante gocce far cadere, altrimenti potrebbero essere troppe, a volte troppo poche, quindi dovete un attimo calibrarvi. Allora, io farei basta così. Vi butto un po' di bianco sul foglio per fare in modo che venga fuori anche un pochino di texture e con il nero vado a dare dei piccoli colpetti senza esagerare e dalla parte che verrà l'ombra già un pochino posso esagerare invece. Ok, così. Prendiamo uno dei nostri giornali in questo caso lo stropicciamo poco e lo appoggiamo. Non dobbiamo farlo strisciare, quindi dobbiamo tamponare. Dobbiamo essere abbastanza veloci, altrimenti la vernice si asciuga. Giriamo dalla parte pulita e continuiamo a pulire, a far assorbire la vernice di nuovo, fino a quando vedremo che non ci sarà più vernice da far assorbire sul giornale. E vedrete che tutti i crateri diventeranno più puliti, quindi avranno dei bordi più definiti. Dobbiamo fare in fretta, adesso lo sto facendo anche abbastanza lentamente, altrimenti si asciuga e non si riesce bene a pulire. Ok, state attenti a fare questo lavoro che se il giornale è sporco rischiamo di andare a sporcare il bianco che invece abbiamo bisogno che resti bianco. A questo punto come al solito infacciamo una parte di luce e dalla parte opposta andiamo a dare un filo d'ombra. Mi raccomando che sia sfumata, non facciamo un mascherone nero così. Ora aspettiamo che si asciuga o asciughiamo con il fono. Come sempre andiamo a sentire se è asciutto dove non possiamo fare danni e se è asciutto riposiamo il sottovaso. Ricordiamoci di prendere una porzione di luce e una porzione di ombra. Ok, adesso siccome voglio andare a fare il bordo della luna con un rosa chiaro copro un po' di nero con il bianco così mi dà sicuramente una mano perché il rosa è molto chiaro. Vado a tenere premuto con una lieve pressione il sottovaso e spruzzo il bordo. sempre poca vernice il minimo possibile. Ora vi vado a sfumare l'azzurro quindi stiamo lontani perché altrimenti non si sfuma ma vengono proprio campiture divise. Invece noi vogliamo che sia tutto armonico quindi i colori devono essere sfumati. Andiamo con il blu sempre sfumato ok se vediamo che il rosa intorno alla luna si è sporcato troppo gli ridiamo una passata per dargli lucentezza. Allora con il nero gli vado a fare un po' gli angolini ma questo ovviamente è un mio gusto voi potete usare come al solito i colori che volete. Ok a me piace molto il rosa fluo quindi gli vado a dare qualche tocco che rende tutto un po' più magico. Gli vado a fare un po' di effetto tramonto e con il rosa fluo gli vado a dare un tocchettino così. Ok allora a questo punto bisogna fargli le stelle. Ve l'ho già fatto vedere ci scriviamo la vernice su queste due dita lontani dal foglio per evitare di sporchiare e poi mi raccomando la prima scrollata sempre fuori se no vi vengono su dei goccioloni che non assomigliano a stelle. E ora tiriamo su il nostro sottovaso. Et voilà. Allora come vi ho detto adesso vi faccio vedere come si fanno le nuvole. Quindi prendiamo il nostro solito cartoncino da disegno e lo strappiamo così. A questo punto bisogna creare degli strappi che possano assomigliare a delle nuvole. Così non vanno bene sono troppo piccoli sarebbero veramente brutte. Quindi noi riprendiamo il cartoncino e strappiamo. Cerchiamo di fare degli strappi un po' più grossi un po' più piccoli. evitiamo tutti questi scalini che diventano troppi. Ok. Stiamo attenti alle punte e molto questa è una cosa che è difficile da insegnare dovete sperimentarla e fare delle prove per calibrarvi anche su questa cosa. poi lo provo se non mi piace lo posso sempre modificare. Qui abbiamo bisogno della bomboletta bianca e che sia ben sbattuta e che vaporizzi bene. Se è troppo consumata che se ne è rimasta poca è meglio aprirne una nuova perché se no le nuvole non verrebbero belle vaporose. io l'apro nuova perché questa qui inizia ad essere un pochino scarica. Ok. Quando aprite la bomboletta vi consiglio di prendere la vecchia bomboletta e colorare questa parte. Così sapremo sempre il colore. Sbattiamola bene! Allora perché la bomboletta va sbattuta bene prima di usare? Perché la bomboletta stando ferma magari molto tempo anche qualche ora il pigmento che si è all'interno si va a depositare sul fondo quindi la sua base rimane in alto mentre il pigmento che è più pesante va a depositarsi. Quindi noi dovremmo andare ovviamente a rimescolare il tutto. Ad esempio nelle Montana White o nelle Montana Gold dove la vernice è molto più densa dentro il pigmento si deposita e va a bloccare anche la pallina quindi quando andiamo a sbattere non sbatte la pallina. Dopo un po' sentite perché è molto densa e ha bisogno di essere sbattuta molto bene queste ferramenta sono un pochino più più liquide quindi ci vuole di meno riprendiamo il nostro cartonzino e iniziamo a fare le nuvole io le faccio così dall'alto verso il basso poi giro non dovete stare attaccati al foglio se no non vengono vaporose dovete stare un pochino su e state attenti che quando spruzzate molto possono poco colare la vernice sul foglio e quindi andiamo a pulire da qualche parte ok dovete esercitarvi per fare le nuvole perché non è proprio una cosa che viene subito subito bene cercate di spruzzare delle volte qui delle volte lì se no vengono tutti uguali potete anche strappare altri fogli se volete dobbiamo fare in modo che sappiano di morbido sembrino un materasso poi se le voglio rendere ancora un pochino più tridimensionali le vado a scurire magari con un oro rosa chiaro e ti rivado a dare qualche nuvola invece completamente bianca che si apparirà in questa maniera davanti e voilà io direi di fare basta così vado un po' a uniformare adesso vi consiglio di lasciare asciugare un attimo perché poi dovremo posare la spatola ed è meglio che la vernice sia fresca altrimenti rischiamo che ci lasci un bel rigone allora qua dobbiamo andare a dividere il foglio e vi consiglio di munirvi di una spatola come questa che sta qui da 60 cm potremmo usare anche un cartoncino da disegno se non che il cartoncino da disegno è flessibile quindi vi suggerisco di munirvi di una spatola rigida così che la nostra riga venga bella dritta e ci basterà tenerla con un dito tra l'altro invece il cartoncino rischia di muoversi oppure potete anche usare un cartoncino da disegno e invece di tenerlo così aspettate che la vernice sia completamente asciutta e poi lo posate così usate la riga per fare il vostro mare però la spatola è sempre la soluzione più veloce ed è sempre la migliore ovviamente vi ricordo che trovate il link in descrizione e c'è un 15% di sconto allora al mare bisogna essere veloci a farlo quindi posiamo la nostra spatola ci mettiamo i colori che dobbiamo utilizzare vicini in questo caso io userò un rosa azzurro e blu e ovviamente bianco e andrò dai colori chiari ai colori scuri quindi chiari scuri e poi userò il bianco per fargli la luce adesso vedrete allora quindi cerchiamo di mettere la dritta andate a occhio così e poi inizio dai colori scuri potete iniziare anche da quelli chiari non fa molta differenza azzurro 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 e qua sul mare è stato un pochino più abbondante perché altrimenti la vernizia si asciuga troppo in fretta e dopo non si riesce a lavorare col dito bianco sul bianco gli vado a fare il riflesso della luna così se ne metto un pochino di più tiro su il foglio tiro su la spatola tengo il foglio da qualche parte e poi col dito dobbiamo andare a strofinare dobbiamo essere leggeri soavemente se non ci piace come in questo caso con un cartoncino possiamo sempre andare a ridargli la luce questo è successo perché ho buttato un po' troppo a vernice stiamo attenti a non fare pastrocchi e andiamo a buttare un po' di luce e voilà ok dopo possiamo andare anche a fare i veri tocchi non è venuto al massimo però diciamo che è accettabile anche perché qui dopo devono venirci dei delfini e appunto dopo con gli schizzi dei delfini alcune cose verranno coperte quindi diciamo che ce la siamo cavata allora come avete visto all'inizio video qui abbiamo due rocce sono delle rocce un po' alla spray art ecco non sono troppo realistiche ma fanno il loro effetto e si fanno semplicemente con il nero e grazie al nostro blu sotto in questo caso dopo ci sono tante altre maniere che andremo a vedere anche più avanti oggi le facciamo così allora in questo caso dobbiamo stare molto vicino con la bomboletta nera perché dobbiamo riuscire a tenere una riga netta e non sfumata se no se andiamo a rovinare il mare quindi molto vicino così e poi andiamo a riempirlo si vuole un po' di allenamento ma sono sicuro che se la farete giornale stropizzato poi con le dita all'interno del giornale andiamo a passare sopra al nero ok poi io sono solito a rifare una rozza sopra quindi vado a buttare del nero so che potrebbe essere un po' difficile da capire questo all'inizio poi vedrete che provandoci e riprovandoci ci riuscirete tranquillamente è ora di usare la nostra spatolina allora facciamo un po' di trasparente passiamo sui bordi cerchiamo di dargli qualche forma che sappia di roccia dovete stare attenti alla dinamica della cap mi raccomando perché questo è un lavoro un po' di precisione dovete fare in modo che il nero non venga via tutto mi raccomando perché sennò vi viene una patacca blu e basta comunque avremo modo di tornarci sopra qui adesso vi faccio vedere bene o male come si fanno le cose tanti elementi insieme ma poi bisogna andarci un pochino a studiare nel dettaglio sciolgo perché si è rasciugato bisogna imparare un pochino a usare la spatolina perché questa qui è flessibile dobbiamo imparare a giocare con la sua flessibilità farei basta così allora siccome dobbiamo andare a posarci sopra uno stencil abbiamo bisogno che il disegno sia completamente asciutto quindi non abbiate fretta perché sennò il mare si rovina di sicuro soprattutto qui dove ci ho spruzzato più volte per fare lo stencil trovate il video qui sopra sulla destra nel video è una piccola lezione apposta di uno stencil base dove vi faccio vedere i 5-6 modi per poter appunto fare uno stencil allora siccome adesso dobbiamo andare a posarci sopra il nostro stencil dei delfini dobbiamo fare in modo che il quadro sia completamente asciutto perché altrimenti andremo a rovinare sicuramente il mare come prima cosa visto che ci abbiamo buttato molta vernice e soprattutto l'inverno dobbiamo essere un pochino più pazienti ok posiamo sopra il nostro stencil come vedete sono due delfini a cuore e li metto sulla luna allora possiamo usare dei bulloni in questo caso io ne ho di grandi per tenere fermo il foglio perché quando andiamo a spruzzare con la bomboletta la pressione della vernice potrebbe andarci sotto sicuramente si andrà sotto se non stiamo attenti perciò mi raccomando state attenti ok allora se il buco è troppo vicino al nostro quadro dobbiamo andare a coprire se non li abbiamo lasciato abbastanza a bordo quindi con dei cartoncini con dei giornali o con cosa volete meglio che andiate a coprire queste sono precauzioni se avete tempo che vi salvano anche perché dobbiamo spruzzare da un po' lontano se no rischiamo di rovinare spruzzate pochissimo il minimo indispensabile ok vediamo i bulloni andiamo a tirare su lo stencil teniamolo fermo da una parte e tiriamolo su dall'altra così e voilà i delfini li abbiamo adesso gli andiamo a fare degli schizzi con una spatola già che ci siamo con questa spatola andiamo a fare una punta a 8 stelle come vi ho fatto vedere nella seconda lezione che trovate sul mio canale mentre di qua gli vado a fare una stella cadente e come per la stella ritrovato il tutorial sul secondo video sul mio canale ultimo tocco di classe questo ve l'ho sempre fatto vedere nel secondo video sul canale e voilà il flesso e il quadro è finito spero di essere stato chiaro spero di essermi fatto capire bene mi raccomando allenatevi non datevi degli incapaci se non vi vengono bene subito le cose come ad esempio le nuvole le rocce e il mare sono un po' rognose all'inizio ma vi verranno ve lo assicuro abbiamo visto gli stencil ho preparato un video apposito con 6 metodi per fare questo genere di stencil è molto semplice guardatelo e basta se avete domande fatemelo nei commenti e al prossimo video perché faremo un quadro ancora più bello e al prossimo video Grazie.